Cosa è un'ulcera intestinale? Un'ulcera intestinale è una ferita dolorosa e aperta che si forma nella parete dell'intestino. Mentre le ulcere di solito possono essere trattate con farmaci, in alcuni casi l'ulcera intestinale può sanguinare o lacerare. Le ulcere sono una condizione comune che colpisce una persona su dieci. Le ulcere intestinali sono cinque volte più comuni delle ulcere gastriche. I sintomi di un'ulcera intestinale possono differire tra le persone, ma l'indicatore più comune è un dolore acuto e bruciante nell'addome, appena sotto lo sterno. Il dolore che brucia va e viene, ma è prevalente tra i pasti al mattino presto. La durata del dolore può variare da minuti a ore. Una persona con un'ulcera sperimenterà spesso problemi di stomaco come nausea e vomito. Il sangue può apparire nel vomito e i movimenti intestinali saranno visibilmente scuri. Altri sintomi di un'ulcera includono mancanza di appetito, perdita di peso e indolenza. Il principale colpevole delle ulcere non sono i cibi peccanti o lo stress, ma il batterio Helicobacter pylori, comunemente indicato come H-pylori. Il batterio si trova all'interno del rivestimento dello stomaco e dell'intestino. Talvolta l'H-pylori può disturbare il rivestimento dello stomaco e il duodeno, che è l'inizio dell'intestino tenue. Questo fa sì che il corpo produca più acido, portando a un'ulcera. L'uso di farmaci antinfiammatori non setoidali può provocare ulcere. Farmaci antidolorifici come l'ibuprofena e l'aspirina, e anche alcuni farmaci per il bruciore di stomaco, possono effettivamente causare lo stomaco per la produzione eccessiva di acido. I farmaci antinfiammatori non steroidei possono prevenire la secrezione di un enzima che protegge il rivestimento dello stomaco e dell'intestino. Altri fattori possono giocare un ruolo nello sviluppo delle ulcere. L'uso della nicotina aumenta la quantità di acido prodotto nello stomaco. L'abuso di alcol può anche deteriorare il rivestimento dello stomaco e creare una sovrabbondanza di acido. Il trattamento per un'ulcera intestinale può variare a seconda dell'età, della salute generale e dell'estensione dell'ulcera. Le ulcere possono spesso essere frenate con i farmaci. A seconda della causa, può essere prescritta una medicina che abbassa il livello di acido prodotto nel corpo, protegge il rivestimento dell'intestino e uccide H. L'acido può essere ridotto mediante l'uso di inibitori della pompa protonica. Viene somministrato un farmaco che allontana le cellule produttrici di acido. Questo tipo di farmaco è spesso preso una mezz'ora prima dei pasti. Non forti come gli inibitori della pompa protonica, i bloccanti del recettore H2 riducono anche la quantità di acido prodotte internamente. I farmaci che proteggono il rivestimento dello stomaco e dell'intestino includono antiacidi e sucra alfato. Per uccidere il batterio H. Pylori, gli antibiotici vengono spesso prescritti per due settimane. Nella maggior parte dei casi, un'ulcera scompare nel giro di poche settimane con il trattamento. Se il farmaco non allevia l'ulcera, potrebbe essere necessario un intervento chirurgico.